Il santuario di Santa Maria della Vita venne fondato nella seconda metà del Duecento dalla Confraternita dei Battuti, i cui membri, accanto alla pratica della flagellazione, provvedevano all'assistenza dei pellegrini e dei malati nell'attiguo ospedale, ora scomparso. Un rovinoso crollo del soffitto impose nel 1687 la totale ricostruzione della chiesa, che fu affidata a Fra Giovanni Battista Bergonzoni. Esattamente cento anni più tardi, Giuseppe Tubertini innestò sulla pianta centrale a Ellisse la grandiosa cupola che si inarca alle spalle del Palazzo dei Banchi, ben visibile da Piazza Maggiore. L'oratorio, il suolo in stile barocco della città, decorato alle pareti e nelle volte da freschi e dipinti, custodisce una stupefacente opera cinquecentesca di Alfonso Lombardi, Il transito della Vergine. Si compone di 15 statue in terracotta, con il gruppo degli apostoli stretto intorno al feretro della Madonna, che un miscredente tenta in vano di rovesciare, mentre viene abbattuto da un angelo. La visita alla chiesa è però addirittura irrinunciabile, per ammirare nella cappella a destra dell'altare uno dei più alti capolavori della scultura rinascimentale, Il compianto su Cristo morto, realizzato da Niccolò dell'Arca nel 1463. In quest'opera la morte di Cristo non ha più nulla di trascendente, di religioso o di simbolico, è un dramma totalmente e indiscutibilmente umano. Un gruppo di sei figure si ritrova intorno al corpo senza vita del Redentore. Il dolore ha rinchiuso Nicodemo di Arimatea, inginocchiato all'estrema sinistra, in un'impenetrabile incomunicabilità, ed ha prosciugato San Giovanni Evangelista, al centro, con un pianto interiore che non trova sfogo. Al contrario, le tre Marie e la Madonna, l'ultima figura di destra, si abbandonano a una disperazione che ne trasfigura i lineamenti del volto, ne deforma le dita delle mani, sembra scuoterne i corpi coi singhiozzi e fa tempesta dei loro abiti. Al cospetto di tanta insostenibile sofferenza, lo spettatore resta turbato e muto. La sistemazione attuale del gruppo non rispetta la disposizione originaria e fino ad oggi sconosciuta dei personaggi, che, nel corso dei secoli, sono stati più volte spostati.